Marshmallow Games non è solo contenuti ma è anche tecnologia ed è stata sicuramente vincente la scelta di puntare su un tool per la realizzazione di app mobile in ambiente Android e iOS. Questo consente sicuramente scalabilità in termini di business ma anche in termini di manutenibilità del codice e in termini di tempi ridotti per la realizzazione delle app, quindi sicuramente una scelta vincente.